Ne stanno accadendo di ogni nelle puntate americane di Beautiful. La trama che sta andando attualmente in onda in America vede al centro della scena la rottura tra Ridge e Brooke. Inevitabilmente, ciò che sta succedendo ai Bridge trascina gli altri protagonisti nel caos. Tra questi c'è Liam Spencer. Quest'ultimo ha ormai ritrovato la serenità con Hope. Ma il ritorno di Deacon già mette a dura prova il loro matrimonio. Nel frattempo, l'arrivo di Sheila causa problemi anche alla coppia composta da Steffi e Finn. Gli equilibri sembrano essere andati ormai distrutti con questi ritorni e ora in scena c'è anche Taylor. Dunque, come si può immaginare, i telespettatori americani stanno assistendo a vari colpi di scena. Come già anticipato, Liam si schiera subito dalla parte delle Logan. Quando Brooke perde le speranze, lo Spencer la invoglia a continuare la sua lotta per Ridge. Non solo, tenta di avere delle notizie sul Forrester sfruttando il suo rapporto con Steffi, in quanto hanno una figlia insieme, Kelly. Questo, però, sembra non bastare a tenere viva la serenità nella vita dei Lope. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Bill tornerà in scena per dare delle indicazioni a Liam riguardo alle sue due famiglie con Steffi e Hope. In particolare, il capo della Spencer Publications gli darà uno dei suoi consigli per aiutarlo a muoversi meglio tra le due eterne rivali e mantenere, allo stesso tempo, intatto il suo matrimonio. Sebbene sia schierato dalla parte delle Logan, Liam deve comunque cercare di avere un buon rapporto con Steffi, visto che sono entrambi genitori di Kelly. Ma dal momento che Bill apparirà, nelle prossime puntate americane, preoccupato per l'equilibrio del figlio, i fan non possono non preoccuparsi. Questo potrebbe, infatti, suggerire che emergeranno nuovi problemi tra Hope, Liam e Steffi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.